ed eccoci qua nel mondo di baby bobby dove è pronto a farci del male ma noi cosa facciamo shark scappiamo scappiamo esattamente attraverso questo interruttore ecco già che si spinge tutto non è una cosa molto buona shark e quindi io dico ti dico subito che ti devi togliere porta miseria spiegati dai che sto aspettando te ok perfetto calci questa grata e vediamo dove ci porta magari direttamente da baby bobby eccoci qua già il primo ostacolo di baby bobby attenzione a questo pugno che potrebbe buttarci vai avanti come fai a usare perché non lo vedi shark perché io ho messo la modalità e esperto per quello non lo vedi no odio questo quest'aeroplanino voglia a me qui ho fatto ce l'ho fatta mamma mia il primo ostacolo shark adesso vediamo shark cosa cosa in mente vediamo se riuscirà a trovare un escamotage eccolo eccolo sta arrivando sta arrivando e perfetta attenzione perché questi potrebbero essere a tempo che vai avanti per cortesia che non vedo niente ho notato che hai cambiato skin hai queste due braccia super muscolosi se mi sono allenato magari serviranno per distruggere baby bobby saremo a vedere se saranno d'aiuti questa questa nuova skin we mamma mia ragazzi che salvataggio ma che sono massimati si dovrebbero essere massimella alta lui salta 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 qui no mamma mia ok attenzione io devo aspettare altrimenti cado ok qui c'è quella che figo e cado lo stesso ti aspetto qui aspetta ok lì c'è ma sempre ci stare baby bobby dov'è dov'è guarda la sopra ha fissato è proprio sopra di noi usa il cannone vediamo bomb no non è possibile porca miseria va bene andiamo sopra vediamo io quasi quasi comprerei dei razzetti che forse riusciamo a concludere il gioco non serve l'aereo bisogna andare lì direttamente il condotto dell'aria shak sempre a dire bazzeccole spostati spostati grazie grazie mille shark per avermi fatto passare davvero sei grande dove sei vai 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 salta dai dai un po di testate accucciati inventati qualcosa dai che forse ce la fai forse ce la fai forse ce la fai aspetta magari se mi metto in primo io non capisco perché tu guarda 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 è alto tre metri porca miseria sicuramente non riuscirai a concludere il gioco attenzione il piccolo bobby sta dormendo attenzione non devi andarci dentro sentiamo come russa mamma mia aiuto aiuto che cosa eccolo infatti sei alzato corri 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 ti dico subito che ti devi togliere spostati aiuto ah ma non è abbastanza lento e nonostante la modalità hard è abbastanza lento è dov'è dov'è ma è velocissimo che è veloce no sei tu che sei lento perché cammini in modalità non si sa tappeto volante che hai sotto un tappeto invisibile è la camminata da vampiro la camminata da vampiro a te ma sarei come le sale aiuto le sale per davvero aiuto correcciato perché io pensavo che lì inciampano essendo un piccolo bebbè invece no niente quindi se ancora mi sta ancora inseguendo via un po vediamo non c'è più non c'è più baby bobby dove è andato è morto come è morto vedi che non sa le scale jack no non c'è più dove è andato mi sta deludendo questo sento piangere eccolo ah no sei proprio incastrato lì sotto ma sei proprio un pollo ma sei proprio oltre sei brutto sei anche un pollo va bene meglio così allora possiamo procedere che scappiamo incastrato non è rimasto non incastrato scappiamo dal mister invisible dal mister invisible quindi vorresti dire che baby bobby ha un fratello invisibile ecco qui non entri no sei entrato questa volta bene 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 no perché quello era più piccolo ok oh no aiuta guarda sotto ah direttamente no non è possibile siamo cascati nella trappola di baby bobby porca miseria ok ce la facciamo ad alzarsi yes ok ci troviamo direttamente nella bocca di baby bobby ma si voglia i mantoncini no questi sono sono lego e ti devi spostare porca miseria ma si mangia lego si questo è baby bobby ma lui lo curerò no ma ci mangia anche a noi sinceramente vediamo un po' vediamo un po' cos'altro ha ingerito certo vai avanti questo è moccolo questo non è moccolo perché sono i succhi gastrici ok oh sono arrivato anch'io oggi sei veramente in grandissima forma da quello che sto vedendo vai 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 uno alla uno per porta ok perfetto perfetto yes yes guardate ok 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 fai attenzione a rotolare i piselli verdi hai i piselli mmm questa cosa non mi piace a shark infatti ti aspetto vai eccomi vai avanti ecco ecco il pisello verde vai vieni con me vieni con me qua dentro qua dentro aspetta aspetta che passa no è impossibile vediamo un po' vediamo un po' via corri 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 mette la modalità turbo io sono valentino tu non hai la modalità turbo perché hai la camminata da da vampiro però se tu sali qui sopra la pallina non ti dovrebbe prendere si ti prende quanto un razzo ce l'hai fatta a shark ottimo ma che cosa hai che senti puzza cosa non capisco è la camminata da vampiro e perché hai il braccio così perché è la camminata da vampiro ah la camminata da vampiro che sente le puzze cosa sente non è la mascherina quindi sono in nascosta mamma mia io non lo so non ho parole shark tutte le skinne più più ma va bene ok perfetto non è bella shark che tu prendi delle skinne che fanno ridere va bene adesso te l'ho detto non te lo volevo dire ecco fatto sapevo che ti saresti messo a piangere ok queste luci aspettate aspettate dove è? di qua? bravo Hitz ecco qua infatti tu perché già sapevi che qui bobby biba faceva le puzzette ok baby bobby va bene mi sono sbagliato ok qua bisogna prendere mi sta insultando baby bobby ora ti ammazza il piccolo baby bobby dov'è baby bobby strano che ancora non l'abbiamo incontrato a parte lì all'inizio però va bene vai shark vai vai perfetto ok sì perfetto ok vai avanti tu ottimo 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 e qui bisogna mettere l'ultimo ok il pego l'ultimo no qui l'ultimo dove l'hai piazzato tu lì vediamo un po' e a me va di sotto ma porca miseria niente io devo morire ok rigeneriamo ok faccio uso un'altra tecnica vediamo un po' più corto a te più lungo perché io sto giocando in modalità hard shark e motori dico ok facciamo così uso un'altra escamotage vediamo un po' se funziona ma poi posso risalire penso di sì faccio così aspetta bisogna vedere quante quante decole sono però vediamo un po' perché qui bisogna usare un po' di astuzia sì ne ho due quindi magari se ne a cavallo una sopra l'altra dovrebbe funzionare in teoria vediamo un po' vediamo ok eccoci qua ciao shark ma stai fluttando nell'aria ok mi metto uno qua e poi prendo questo e lo metto così yes sì funziona che bello perché io in verità prima stavo su quello fuzia ah boom oh oh aspetta shark perché qui ci aspetto una bella gara non scappare non scappare perché sei diventato giallo shark 3,2,1 via via no 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 sì 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 no salta troppo appunto salta troppo porca miseria però il grande sharkino ce la sta facendo io ok shark perché questa volta te la do buona va bene questa questa gara fatto ok l'hai vinta tu perfetto ma itz ti sto aspettando dove bisogna andare qui oh aspetta vabbè vabbè ha un colore in il naso oh oh già l'ho visto l'ho visto shark che ha un colore ah però tu tu non hai ostacoli ok perfetto no perché io ho messo la modalità super mega ultra mila facile tu non hai ostacoli io invece sì perché tu hai messo la super modalità easy ok 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 perfetto ok adesso ce la dovremmo fare vediamo un po' chiara qui ed eccomi muuuu ciao shark fai un po' di velocità ah perfetto ecco lì baby bobby che sta ancora dormendo ah 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 forse per poco prendiamo che che ci da no perché in prima persona dove 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 è sto baby bobby che ti distrugga devi uccidere i bambini ah i bambini sono i suoi figli oggi mille cinquecento no 1500 è la vita no aiuto aspetta aspetta dove sono mi distrugga tutti shark c6 c6 shark si ottimo ottimo ancora voglio tanti baby bobby venite qui ce n'è per tu non aspetta sto scherzando sto scherzando sono tutti diversi esattamente shark non ho notato anch'io certo con questa mira pessima non so quanto potrò durare però aiuto dove sono gli altri ah no questo sei tu ma quello rosso salta ah c'è anche uno che salta bene perfetto quello rosso io lo so non ho incontrato ho incontrato bianco nero giallo verde ma rosso no ah è vero è vero salta boom ucciso quello rosso è più difficile per me nulla è difficile e ce l'ho fatta andia ah 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 pensare che ma anche l'ultimo ho finito perfetto shark ottimo ottimo c'è una scala di bambù prendi la scala mobile del destino dei fagioli verdi ahhh qui siamo proprio nel nel fagiolo magico vediamo un po' dove è questo fagiolo dove questo fagiolo dov'è dov'è aspetta aspetta dove bisogna andare qui sotto perchè mi va però così lento a me mi va così lento ciao che io non ti vedo più dove sei sto venendo fammi vedere dove sei dove sei dove sei a me è lento non ha la super velocità si anch'io eccoti perfetto certo qui lo fai in modo tale che uno poteva rotolare e magari arrivare giù in fondo a meno che a meno che eccolo lì vedo una una testa ecco andiamo dove andiamo forse è la testa e se la dobbiamo cavalcare si ah no è una macchina hai ragione shark le specchie andiamo insieme certo che andiamo insieme shark ah è la macchina di baby bobby oltre a averlo sconfitto ci sta offrendo anche la sua macchina io però prima la voglio vedere com'è fatta fammi vedere mamma mia è brutta è proprio bruttissima mamma mia con questo dentone davanti mamma mia eccomi sto arrivando no un bernoccolo in testa eccomi che c'è un bernoccolo si ce la fai anche un piccolo bernoccolino ecco ecco ciao shark ciao certo con questo braccio che sembra che hai sentito puzze non si può vedere però si perchè tu hai appena oscuro che hai tutto secondo me secondo me faccio prima prima scendi un po' shark vediamo chi arriva prima se vuoi io no eccoci qua vedo lì il mio me il mio me che me che sono io no sono cascato all'ultimo e vabbè tanto sei arrivato shark dove sei dove sei dove sei ah eccoci ed eccoci qua ragazzi siamo arrivati al termine di questo gioco come sempre qui troviamo il jump head e lo speed head ecco la velocità e il super salto ci c'è un nuovo tasto che cos'è quello un rosso delle spalle ah no quello è per iniziare qui abbiamo un portale il nostro nuovo gioco per prendere ah ah qui c'è un nuovo gioco quindi ragazzi se il video vi piace lasciate un bellissimo like ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale e ciao ragazzi ciao 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 ciao